Allora, come l'ho detto prima, abbiamo litigato molto e finalmente abbiamo dovuto fare un compromesso storico, sicuramente il testo che è stato premiato subito in collegio non ho mai contato era della scrittura bellissima, ma l'originalità come si tratta di un episodio della vita di Alessandro Manzoni che tutti conoscono più o meno, naturalmente c'è un paradosso tra la qualità della scrittura e l'originalità. Per il secondo nostos sicuramente la scrittura, la qualità della scrittura era anche molto bella e abbiamo pensato che c'era un dilemma perché si deve trovare per fare un cortometraggio era più o meno adatto. E finalmente si deve dire, anche devo dire, che c'era tutti altri racconti, alcuni racconti sono più o meno dei gialli come Parvor Nocturnus e Mero Riflesso dei miei strani pensieri. Sì, per coloro che amano i gialli sono affascinanti, per coloro che non ammiano la giuria non ha potuto mettersi d'accordo su questo, ma sono dei, diciamo che coloro che hanno scritto questi sono, penso che come scrittori di gialli hanno un futuro. Poi c'è una parte, un altro, che sono dei racconti che ora, sicuramente oggi, è più di mai di attualità con i profughi della Siria. Allora, i racconti degli emigrati, penso a questo bellissimo racconto che è la fettuccia colorata, colorita per esempio, o Maratona, e anche Kismet, tutto questo. E poi un'altra parte che sono dei racconti psicologici, che sono belli anche come Miata, Natos, i giorni del sole, le orecchie di Dio, il dolce vermilio di fiore, eccetera. E finalmente forse, si siamo lasciati, tutti e tre finalmente, perché siamo caduti d'accordo, che si siamo lasciati sedurre da un piccolo racconto, piccolo, ma geniale, un po' come un racconto di Woody Allen, che c'è la fine, che tutto è nella fine sorprendente, anche se non è, forse la scrittura è scritta al primo grado, come il racconto, come la parola, come parliamo ogni giorno. Non si può dire che dal punto di vista letterario non si tratta di Manzoni, né di Vergani, ma il racconto ci ha piaciuto veramente per la sua originalità. Abbiamo privilegiato, direi, l'originalità piuttosto che la qualità letteraria. E questo, alla fine devo dirlo, che questo che abbiamo premiato è una madre disperata.